ciao e benvenuti un nuovo video allora è appena arrivato questo pacchetto da astra astra makeup e ho deciso di aprirlo con voi se non mi sciolgo prima durante il video ma sono al chiuso con luce 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 ed è senza clima quindi potremmo dire un attimo ma per voi questo è altro dunque ancora sigillato quindi lo apriamo insieme penso di sapere cosa sia più o meno perché ho visto vari video di varie ragazze ma curiosa io anche perché i pacchi erano abbastanza diversi in base alle esigenze proprio delle caratteristiche quindi basta parlare e apriamolo però potevo prendere almeno un paio di forbici come lo apro adesso scardino un po distrutto ma tanto è da aprire come sempre chiuso benissimo me l'aspettavo ma sono curiosa è la nuova linea per il viso di astra makeup che oltretutto teniamo fuori tutto perché questa cosa fa molto rumore esatto scatola vuota via oltretutto è formulata ed è con il 92 per cento di ingredienti di origine vegetale vegan quirli free ottimo prima cosa che noto così sempre molto apprezzato il gel per le mani alcolico proprio di astra ci piace anche perché io l'utilizzavo ben prima di tutto ciò perché è sempre utile da vercelo ed è con vitamina e glicerina azione rapida senza risciacquo perfetto ma andiamo alla collezione che è la cosa che ci interessa di più la nuova collezione viso allora vediamo cosa hanno inserito perché ho visto che ci sono dei prodotti non ci sono tutti perché sono per i pesi per idratanti opacizzanti ed è quindi per pelle secca ed è normale mista spero che siano adatti a me intanto vedo questo che il contorno occhi crema antifatica con 97 per cento di ingredienti d'origine naturale idrata e tonifica antifatica con peptidi e acido ialuronico lo apriamo perché è ancora chiuso applicatore a boccetto allora vediamo un po' questo ricco ma non troppo quindi perfetto profumo di crema classico e se già assorbito ci piace andiamo avanti con questo lozione viso idratante leggera idrata e riequilibra con vitamina b3 adatto a tutti i tipi di pelle c'è una luce che mi dà fastidio lì in fondo dopo il sistema ma adesso sto più altra e vediamo anche questo quindi scusate una lozione idrata viso idratante leggera ok effettivamente già così vedo che è un gel vediamo sì sì e non solo e non solo ma ci piace anche questa profumazione molto molto classica ci può piacere o no come cosa ma non dispiace finiamo con siero viso rigenerante rigenera e illumina con h mix di acidi della frutta ideale per fai sensibili con 98 per cento di ingredienti d'origine naturale non diretto la quantità è un 15 ml e andiamo a vedere anche lui siero viso rigenerante rigenera e illumina è un siero ma dalla texture olio però che assorbe velocemente io l'applicherei alla sera profumazione sempre sempre neutra sempre molto e comunque è già assorbito corriere torno subito eccoci tanto per corriere allora dopo finisco con astra ma ho visto che è arrivato un pacco da pinalli e credo di sapere che cos'è perché l'ho visto tante ragazze e poi che mi hanno contattato anche loro per chiedermi quali prodotti preferivo quindi penso di sapere cos'è per questo dico che dovrei andare a vedere esatto finirò il video ma adesso tiro fuori questi tre e ve li faccio vedere perché è una cosa veloce perché il famoso marchio airbus che tutti parlano è arrivato in italia da pinalli che oltretutto nella profumeria made in italy quindi se volete comprare i prodotti piuttosto che comprare un e commerce straniero aiutiamo il mare in italy airbus super super famoso qui abbiamo shampoo e balsamo io adoro i colori pastellosi allora questo è il balsamo con avocado e olio e olio coconut ed è cocco mmm sa di cocco poi questo quindi sarà lo shampoo per tutti i tipi di capelli for long strong air stessa cosa anche nell'altro con sempre con avocado e cocco quindi ecco lui deve sapere di cocco mmm sa molto di cocco dunque questo è un set a viaggio se non sbaglio che mi hanno chiesto sì infatti sono 60 ml l'uno ho il balsamo sul naso e questo non mi ricordo cos'era ah sì volume e non mi vengono le parole oggi si capisce che c'è caldo è un volumizzante sempre con avocado e cocco perché è la stessa linea ed è rinforzante ce l'ho fatta sa di cocco ottimo quindi questo era il set viaggio della stessa linea quelle per i capelli lunghi quindi per il strutturante e che ripara io non so se avete notato ma shampoo rosa balsamo blu e il prodotto blu e rosa ci sta ed è basta volevo solo dirvi che airbus è arrivata in italia ci sono tantissimi altri prodotti ho visto mi avevano fatto scegliere alcuni avevo scelto questa linea poi non abbiamo messi anche forse degli altri nella linea ma hanno scelto loro ci sta benissimo li proverò molto volentieri torniamo ad astra perché tutta la linea skin care ci sta piacendo tanto è rimasto se non sbaglio sì solo questo ritual fixing mascara mascara ciglia sopracciglia trasparente con pantenolo questo qui che è un 11 ml io è trasparente allora esatto di questo mascara per ciglia e sopracciglia e so che non era più la dedizione per le islea skin ma l'hanno riproposto perché è ottimo anche non solo per fissare ma per ristrutturare quindi rinforza e fa accelera la crescita ho sentito di ragazze anche su youtube quindi abbastanza famose che hanno trovato che dove avevano i buchetti dei panni sopracciglia sono un po migliorati e ricresciuti non fa miracoli ma aiuta e se non sbaglio e deve costare sui 4 90 o 5 90 quindi se funziona altro che i palotti super costosi se funziona questo io lo testo subito questo perché sono curiosa e quindi con la parentesi airbus fatemi sapere quali palotti di questa linea vincolosi scuola di più oltre a mascara perché sempre ottimo contorno occhi quindi lozione idratante leggera e siero viso rigenerante ci piacciono e sicuramente metto subito test questo gli altri due ed è la lozione la testo adesso ma quando non mi trucco mentre il siero vedo perché è un po pesante quindi forse nella stagione un po più fredda oppure alla sera e niente quindi questo era direi tutto ah non dimentichiamoci anche il gel per le maniche grazie mille è sempre utilissimo fatemi sapere come sempre se avete fatto qualcuno di questi palotti se qualcuno vi incuriosisce sia di astra sia di airbus quali mi consigliate perché magari sento dalle ragazze di pinalli e niente io vi do appuntamento al prossimo video ciao ciao ehi sono qui ciao ti sei ricordato di mettere un commentino mi raccomando mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale solo così potrai ricevere un regalino da me lo sai che estrago ogni mese ciao